Questo volume non l'ho comprato io, l'ha comprato la MoMA durante una presentazione e libreria da parte dei suoi attori parecchi mesi fa. Io non lo conoscevo, non ne sapevo nulla. Pensate che nella mia ignoranza non avevo neanche colto il fatto che tutto questo giallo in copertina stesse a significare che al suo interno ci fosse effettivamente un giallo. E che giallo, uno tra i più belli e delicati che io abbia mai letto. E seppur con addosso un pesante senso di inadeguatezza nei confronti di una cosa così bella, proverò a parlarvene. Ma dopo la sigla. Rocca Colomba, Sicilia, 23 settembre 1963. Una donna, la cameriera di una famiglia agiata muore. Un avvenimento che dovrebbe estruggere parenti ed amici, ma lasciare indifferenti i più invece scuote l'intero paese. Lo anima. Tutti pensano di sapere, tutti vogliono sapere e con loro noi. Perché una cameriera muore e la famiglia da cui era a servizio si aspetta un'eredità da lei? Perché la padrona vive in casa della sua impiegata e non viceversa? Perché la defunta ha lasciato una lettera alla famiglia da cui era impiegata nella quale esige che loro facciano delle cose per lei? Perché questa donna era tanto amata o odiata da tutti in paese? Perché un importante e temuto boss mafioso presenzia al funerale di una cameriera? La defunta è Maria Rosaria Inzerrillo, detta la Mennulara, morta di morte naturale nel suo letto di fianco al medico di paese che la stava vegliando nel corso delle sue ultime ore. E di perché, legati a ciò che la sua morte scatenerà, sono ancora moltissimi. E tutti troveranno una risposta nel corso della lettura. Piano piano, pagina dopo pagina. Dalle persone a lei più vicine, i commercianti di Rocca Colomba, il prete, gli impiegati delle poste, gli avventori del bar, le altre cameriere, il medico. Tutti hanno qualcosa da dire sulla Mennulara. Tutti hanno avuto a che fare con lei. Alcuni la ricordano con affetto e più la maledicono ancora adesso che è morta. Una voce dopo l'altra si farà sempre più chiaro e limpido ai nostri occhi il dipinto della donna. Tavola dopo tavola la conosceremo, capiremo chi era, come ha vissuto e come è morta. Starà al lettore capire chi nel raccontarla piega la realtà a proprio favore, a causa di un dente avvelenato nei confronti della donna, e chi invece ce la racconta con sincerità. Ma in ogni caso non preoccupatevi, alla fine delle oltre 190 pagine che compongono questa graphic novel tutti i nodi verranno al pettine. Ogni dubbio sarà fugato. La Mennulara muore nella prima pagina di questo racconto. È la prima immagine bellissima ed impatto ad accoglierci. Eppure un personaggio meraviglioso, empatico, carismatico, forte. Per questo riesce, nonostante la sua assenza, ad essere vera protagonista di questa storia e ad entrare nei nostri cuori. Anche quando ci sembrerà di non capirla. Anche quando il corso della storia ci porterà davvero opinioni e sentimenti contrastanti nei suoi confronti. Quando parlo di scrittura sono due le cose che mi sento ripetere con più frequenza. Una è che l'idea giusta non viene mai davanti ad un foglio bianco, ma nel momento in cui meno l'aspetti probabilmente quando neanche la stai cercando. La seconda è che devi scrivere di ciò che conosci. Questo racconto mi dice che forse questi due consigli sono validi e veritieri. La Menulara in principio è un romanzo scritto da Simonetta Agnello Holby. L'autrice si trovava in aeroporto, stava tornando in Italia da un viaggio quando a causa di un ritardo si ritrovò da sola in una sala d'aspetto. Non aveva nulla da leggere, non poteva passare il tempo in alcun modo. Così iniziò a fantasticare e frame dopo frame nella sua testa nacque come un film la storia di cui vi sto parlando. Un anno dopo partorì il romanzo, poi divenuto un best seller. E nel leggere la trasposizione a fumetti è evidente come l'autrice conosca ed ami tutto ciò che ne è contenuto. Dai personaggi, ai luoghi, alle atmosfere, ai colori, ai profumi, tutto. E riesce a trasmettere a noi lo stesso amore e lo stesso profondo rispetto per tutto ciò. Personalmente capisco benissimo come Massimo Fenati, il disegnatore, abbia potuto sentire la necessità e l'urgenza di trasformare la Menulara in una graphic novel. La forza di questo racconto è tale da stregare il lettore. Ci si ritrova totalmente immersi tra le vie del paese e si diventa parte di esso, della sua popolazione. Anche io avrei voluto dare un volto ad ogni personaggio se avessi letto il romanzo prima della sua trasposizione a fumetti. E Fenati è stato strepitoso in questo. Con un tratto delicato ed apparentemente semplice è riuscito a mostrarci nel miglior modo possibile ogni singolo personaggio. Caratterizzandolo al meglio e facendocene conoscere ogni più piccola sfaccettatura. E lo stesso vale per i luoghi, gli edifici, gli abiti, le automobili. Il disegnatore ha evidentemente studiato tutto nei minimi dettagli, riportandoci indietro nella Sicilia degli anni 60. Sarà che sono un amante di questa ambientazione, vi basti pensare che uno dei miei film preferiti di sempre è Baria di Giuseppe Tornatore. Ma ho adorato il risultato del lavoro dei due. Pensate che quando ho iniziato la lettura una sera di qualche settimana fa ho letto le prime 40 pagine e poi mi sono interrotto. Era tardi ed in più forse non la stavo comprendendo. Non capivo dove gli autori stessero andando a parare, cosa esattamente mi stessero raccontando. Il giorno dopo ho letto le restanti oltre 150 pagine tutte d'un fiato. Avevo bisogno di sapere, dovevo arrivare in fondo. Anche se in realtà più mi avvicinavo alla fine più speravo che questa non arrivasse, avevo paura. Avendolo ormai metabolizzato posso asserire con sicurezza che la Menulara rientra senza alcun dubbio nella lista dei 10 fumetti più belli che io abbia mai letto. È uno di quei titoli per i quali pagherei non so quanto per poterli rileggere per la prima volta. Chi mi segue lo sa mi è capitato una sola volta di commuovermi nel leggere un fumetto. Questo ci è quasi riuscito. E la cosa particolare è che ci ha provato con una singola vignetta verso la fine del libro, un singolo balloon, che ho riletto più volte per la sua intensità e la sua dolcezza. Certo, una vignetta figlia di tutte quelle venute prima, ma comunque unica. Non posso svelarvi quale fosse e cosa contenesse perché vi svelerai idee netroscena troppo importanti ai fini della storia. E comunque preferisco non farlo. In un certo qual modo alcuni risvolti dall'aver letto questa opera si sono tramutati i miei pensieri intimi. Fortunatamente ad inizio video avevo messo le mani avanti e avevo precisato quanto io mi senta inadeguato nel parlarvi di opere così grandi e così belle. E credo di aver tenuto fede alla mia promessa. Ma avevo voglia di farlo, né sentivo il bisogno. Se voi invece sentite il bisogno di fare un salto in un'Italia che parzialmente non c'è più, tra le strade di Rocca Colomba, a fare la conoscenza della Mennulara, uno dei più bei personaggi che io abbia mai incontrato, magari lasciandovi rapine da quel giallo che sono state la sua vita e la sua morte, io non posso che consigliarvi la lettura di questa graphic novel. Ed in cuor mio quello che vi sto dando è un consiglio d'oro. Bene cari amici e nemici, io con questo ho concluso. Qualora non aveste una fumetteria nelle vicinanze e voleste acquistare la Mennulara, magari supportando il canale, potete trovare in descrizione il link ad Amazon per poterlo fare. Qualora il video vi fosse piaciuto potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace a voi la Malapasco, o almeno scrivetemi il perché nei commenti, così d'aiutami a conoscere. Ciao a tutti e alla prossima! Mi continuano a dire che devo crescere, che non c'è spazio più per queste cose, devo smettere, invece ancora sono il mio già assieme a Goku su una Mac. Cercami sul tubo che se fai il bravo porto pure te, vado in crociera con Rufi appena ho tempo, mentre tu nel tempo libero rimani svegliastento, guardi solo i TG, io sfondo Netflix, tu hai riunione in condominio, io a Luca Comics. Stai chattando mangas...